Una perturbazione atlantica caratterizzata dall'afflusso di correnti umide instabili dai quadranti meridionali interesserà gran parte della penisola anche nelle prossime ore. Nel fine settimana la saccatura atlantica tenderà ad isolarsi sul Mediterraneo centrale, apportando ancora condizioni instabili, in particolare al sud e a tratti anche su parte delle nostre regioni. In Toscana venerdì 2 novembre molto nuvoloso, con ulteriore aumento della nuvolosità già nel corso della mattinata a partire dalle zone meridionali e orientali della regione. Precipitazioni sparse in mattinata, anche a carattere di rovescio e localmente di temporale, più diffuse dal pomeriggio. Venti di scirocco sulle zone meridionali, a tratti forti al più moderati orientali altrove. Mari mossi a sud dell'Elbe a largo, generalmente poco mossi sulla costa settentrionale, temperature stazionari o in lieve diminuzione le massime. Sul territorio provinciale molto nuvoloso coperto, con piogge alternate a schiarite, localmente di forte intensità. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 11, massima 18 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane e zone montane, minima 7, massima 16. A Viareggio e sul litorale, minima 14, massima 21 gradi. Sabato inizialmente perturbato, ma migliora dal pomeriggio. Grazie.